Romagna, terra di grandi amatori Vi tutto quello che c'è di buono, lo impagniamo Vileggianti, pedalò Ma soprattutto pollo Che impanato dagli amadori ha l'effetto cordon blè Perché da noi il pollo alla cordon blè è sempre così morbido dentro e croccante fuori Amadori per veri amatori Perché è nel palato che la natura vuole il suo sfogo